Chiusa da quasi sette anni per serie e gravi problemi di staticità e sicurezza, la scuola Luigi Pirandello, che sorge nei pressi del Museo archeologico regionale di Gela, potrebbe finalmente riaprire. Se ne riparlerà con l'avvio dell'anno scolastico 2015-2016. Il prossimo 3 settembre, infatti, così come pubblicata sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana, è prevista la gara d'appalto per i lavori di riabilitazione strutturale ed adeguamento sismico dell'istituto. Dunque l'edificio, così come era stato annunciato in altre occasioni, non sarà demolito ma ristrutturato. La demolizione avrebbe portato un importo sicuramente superiore ai 6 milioni di euro già impegnati. Noi invece, andando a consolidare perfettamente in piena zona sismica l'immobile, non solo abbiamo evitato l'imprevisto che generalmente in una zona archeologica o altamente vicina a quella archeologica come è proprio la scuola Pirandello si sarebbe potuto verificare. Abbiamo, con le stesse somme, portato avanti due grosse progettualità. Il lungomare che è già stato affidato in appalto per cui quando prima i lavori inizieranno effettivamente. E la scuola Pirandello che a settembre avrà l'indicazione della ditta che andrà a eseguire i lavori. Il consolidamento dell'esistente, è stato detto questa mattina durante la conferenza stampa, costerà molto meno rispetto alla demolizione e alla successiva costruzione. Dopo tutti gli esami abbiamo visto cosa serve a questa scuola e questo lo stiamo facendo. La scuola verrà sostanzialmente rifatta in tutte le parti, è un progetto che aspettavamo da tanto tempo. Un altro intervento nelle scuole ma soprattutto nel centro storico si restituisce riqualificando una delle strutture più importanti e anche di grandi dimensioni. Ripeto, tanti anni di lavoro ma adesso è già in gara quindi nel giro di pochi mesi verranno avviati i lavori. Per quanto ci riguarda questo è un lavoro strategico. Abbiamo puntato perché dà un servizio e nello stesso tempo recupera uno spazio importante. Questa scuola darà un respiro a quel quartiere che si aspetta da tanto tempo. È un progetto di 3 milioni di euro, giorno 3 settembre già la gara si celebra presso l'Ureca di Caltanissetta. Entro il 28 bisogna presentare le domande di partecipazione. Speriamo che i progetti vadano avanti, come il lungomare già abbiamo avviato la richiesta del certificato antimafia per la ditta che è stata giudicataria, che è una ditta di Catania, la Ferron Beton. Quindi aspettiamo la prefettura che ci sia il risultato su questa ditta e altri certificati per fare il contratto e partire il 1 ottobre con il lavoro.